ANSA, Roma, 30 dicembre, sparisce l'obbligo a non associarsi con altri partiti per gli eletti del 5 metri S. I futuri parlamentari, infatti, stando al nuovo codice etico, devono compiere ogni atto funzionale all'attuazione e realizzazione del programma del 5 metri S e ad astenersi da comportamenti che possano risultare di ostacolo per l'attuazione del programma ma per loro sparisce l'obbligo, previsto nel codice di comportamento del 2013, a non associarsi con altri partiti o gruppi. Punto, questo, che rimuove un ostacolo regolamentare alla possibilità del 5 metri S di fare alleanze. Per gli eletti inoltre, scatta l'obbligo di contributo di 300 euro al mese, per la complessa struttura web del movimento ovvero per le piattaforme tecnologiche che supportano l'attività dei gruppi e dei singoli parlamentari.